Buonasera e bentornati in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino. Do subito il benvenuto al sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Buonasera sindaco e bentornato nei nostri studi. Grazie, buonasera. Ricordo come sempre il numero di telefono 0721 86 14 33 per intervenire in diretta oppure potete inviarci un messaggio anche con Whatsapp al 338 49 68 250. In primo piano l'Ucraina, anche Vallefoglia si è mobilitata per aiutare le persone che scappano dalla guerra in campo, pro loco, ma anche il circolo Arci per una campagna di raccolta di genere alimentari e altro materiale da inviare al confine con la Polonia. Quante sono le persone ospitate nel vostro comune sindaco? Ma le persone, quelle residenti prima della vicenda drammatica della guerra erano già una cinquantina e sono credo circa una trentina presso le famiglie. C'è stato un grande impegno della comunità parrocchiale, della Caritas, del circolo Arci, dei circoli e dell'insieme della comunità di solidarietà. Quello che bisogna fare, che però non è che dipende più di tanto da un comune o una comunità locale, è quella di porre fine alla vicenda drammatica della guerra e quindi speriamo che si possa, come è chiesto anche dal Papa, avere una tregua per poi ritornare ad un clima di cooperazione, di collaborazione e basta con le guerre. Le guerre portano fame, distruzione e miseria, la pace porta a benessere, crescita, sviluppo e progresso. Vediamo in questo momento le foto di una fiaccolata che si è svolta poche settimane fa, quindi tante le iniziative organizzate dal comune, una guerra, sindaco, che porta appunto anche dei problemi economici. Una guerra drammatica, la guerra è sempre una cosa folle, chiunque la fa, in qualsiasi luogo del mondo, tanto più alle porte dell'Europa e tanto più in una fase in cui l'Italia e l'Europa avevano chance straordinarie, il nostro paese è di crescita, di sviluppo, una opportunità credo unica nella storia dell'Italia in Europa e dell'Europa nel mondo e anche per questo è quanto mai urgente finirla con la guerra e riprendere la cooperazione. Penso a tutte le nostre imprese del mobile, le imprese delle scarpe, della lavorazione di altri prodotti che lavoravano con la Russia ma con tutti gli altri paesi del mondo, insomma, mondo globale, di grandi opportunità, ritorniamo a conflitti, a schieramenti, a cose che vorremmo che non fossero mai ritornate all'ordine del giorno, insomma, quindi quello che auspico è che si possa ritornare del tavolo della trattativa e porre fine alla guerra. Il prima possibile. Andiamo avanti con i progetti che stanno a cuore di Vallefoglia e partiamo subito dal nuovo municipio. A che punto sono i lavori? Ma i lavori sono a buon punto. Il municipio che si realizza è a fianco alla Casa della Salute, Montecchio è come se fosse piazza 20 Settembre per Fano perché Montecchio è baricentrica per un'area di oltre 50.000 abitanti proprio a fianco alla Casa della Salute, alla palestra, alle scuole ad una scuola Federico da Montefeltro proprio di fronte al comune dovrebbero terminare nell'arco di un paio di mesi e stiamo verificando con un'impresa che deve realizzare i parcheggi e la piazza di fronte al municipio e quindi pensiamo che nell'arco di un po' di mesi insomma si possa concludere questa operazione del nuovo comune che dovrebbe consentirci di risparmiare non poco dal punto di vista dei consumi, della gestione e di una maggiore arsenalizzazione perché oggi abbiamo quattro sedi in verità i due escomuni e poi Montecchio-Morciola, altri uffici e poi una riconversione anche del patrimonio attuale che verrà fatta quanto prima Ha citato prima la Casa della Salute più volte lei ha avanzato diverse richieste alla Regione per il potenziamento della struttura sono arrivate risposte? Ma francamente no io sono un inguaribile ottimista spero che l'impegno in qualche modo preso dal Presidente della Regione dall'assessore e anche per cose minore oltre che il potenziamento che è l'ABC potenziare la Casa della Salute dove c'è stato un investimento di 2 milioni di euro almeno fare le cose più semplici quelle del ripristino della Guardia Medica mi sembra una cosa talmente assurda non trovare dei medici che fanno funzionare le Guardie Mediche l'apertura il sabato mattina tutti gli uffici comunali sono aperti e quella no Visto che si parla poi di servizi di prossimità e quindi vicini alla gente Sì, ma poi tutta la filosofia anche dei finanziamenti europei sono finalizzati a potenziare i servizi territoriali tutto quello che non è ospedale come ho detto al Presidente all'assessore della sanità alla Giunta regionale ai funzionari che seguono queste cose uno non si capisce perché deve andare a Pesaro, a Fano, a Rimini per avere dei servizi che non sono ospedale quello che non è ospedale uno lo deve trovare in prossimità in un servizio territoriale come la Casa della Salute ma però ecco io spero che questo avvenga e diversamente condurremo una battaglia politica io sono un uomo che non polemizza mai preferisce portare a casa i risultati però la pazienza ha un limite nel senso che o ci sono delle risposte uno è costretto a dire la sua e a fare anche degli atti necessari per difendere la sua comunità è stato chiarissimo Sindaco passiamo ad un altro argomento perché nei giorni scorsi come Unione Pian del Bruscolo avete siglato un protocollo con la provincia di Pesaro Urbino di che cosa si tratta? si tratta in verità dopo la prima programmazione alla quale io ho contribuito un po' d'anni fa e cioè la programmazione che prevedeva un asilo nido che prevedeva una piscina una scuola media e altre attrezzature la provincia ha messo a disposizione per 33 anni rinnovabile un'area importante di quasi 8 ettri oltre i 5 che erano già di proprietà dell'Unione dei Comuni e cosa prevediamo? prevediamo un asilo nido da 120 posti a 180 tre aule in più prevediamo 8 aule e laboratori alla scuola media che ha oltre 600 ragazzi e l'adeguamento alle attuali norme antisismiche in IFUG eccetera e il raddoppio della piscina inoltre prevediamo un campo per l'atletica un campo di calcio per giocare ai massimi livelli come si fa nelle attrezzature sportive importanti per competere con gli altri territori e poi delle attrezzature minori la biblioteca il sistema di protezione civile attrezzature come piste polivalenti aree per il padel insomma tutte queste attrezzature sportive in un territorio che come amo ripetere sempre perché è la verità che ha oltre 50.000 persone residenti quindi è una coprogrammazione di provincia e dell'Unione dei Comuni che è la prima Unione delle Marche per realizzare tutto ciò che è necessario compresa una scuola per attività produttive perché quello è un territorio diciamo fortemente industrializzato una possibilità di formare giovani manager per la competizione internazionale delle imprese ecco quindi diciamo che quest'Unione dei Comuni che ha circa 140.000 abitanti è la prima delle Marche lavoriamo come se fosse un'unica città anche se sono sei comuni e lavoriamo insieme per le politiche sociosanitarie per le politiche urbanistiche per le politiche di formazione professionale di incentivi per il lavoro insomma ecco cerchiamo di tutelare al meglio la nostra comunità c'è un problema anche di miglioramento di tutta la vallata del Foglia di ammodernamento della viabilità già detto al Presidente della Giunta regionale e all'assessore per le infrastrutture che ho avuto modo di incontrare più volte che va modernato l'ultimo tratto della Fogliense Pesero, Lunano, Sant'Angelo Invado, Grosseto e che va a bypassare diciamo dalla zona industriale di Talacchio gli abitanti di Case Bernardi Borgo Massano Rio Salso e che in definitiva completa l'ammodernamento di tutta la vallata del Foglia che assieme alla vallata del Metavro come ricordo sempre ha un buon 80% del sistema economico produttivo della provincia di Pesero Urbino una percentuale veramente alta ma tornando un attimo al protocollo vi siete dati anche delle tempistiche per la realizzazione di queste strutture? Ma per quel che riguarda il nido perché paradossalmente nonostante i due anni di Covid il nido 120 posti non si riesce più a dare risposte positive alle domande quindi è strapieno quindi prevediamo per questa è una cosa positiva abbiamo già chiesto i finanziamenti nel PNRR per quel che riguarda altri 60 posti tre aule nuove e poi abbiamo chiesto il potenziamento con le aule liberando le aule per la didattica alla scuola media perché è in crescita è un territorio fortemente in crescita io devo consegnare un po' in controtendenza vero? Sì molto in controtendenza la prossima settimana dopo le feste di Pasqua dovrò consegnare 118 attestati per i bambini nati nel 2021 e in matrimonio ho celebrato un matrimonio anche sabato mattina ogni settimana un matrimonio è una realtà molto movimentata di nascite di giovani di famiglie abbastanza numerose da immigrati dall'Italia e dal mondo e quindi un territorio molto vivace in forte crescita la piscina tutti dicevano che era una cattedrale nel deserto mi ricordo molti anni fa oggi siamo costretti a raddoppiarla quindi se avevamo visto un po' più in là che la piscina per le persone diversamente abili le persone più anziane per la riabilitazione per i bambini insomma è quanto mai necessaria quindi concorriamo per potenziare la piscina per tutte queste attrezzature e la provincia dà una mano insomma ecco la ringraziamo perché messa a disposizione otto etni di proprietà della provincia dandolo in diritto di prelazione insomma che ci consente di avere dei finanziamenti per far sviluppare e crescere ancora di più quell'area ecco però se da una parte si registra una crescita dall'altra purtroppo ci sono anche persone che perdono il lavoro e che per fortuna percepiscono un reddito di cittadinanza danno a Vallefoglia un loro contributo è così? Il reddito di cittadinanza bisogna impegnarli e fargli guadagnare quelli che prendono insomma nel senso che la gente è piuttosto diciamo infuriata diciamo dal fatto che si danno dei soldi senza che uno faccia alcun che quindi bisogna come dicono le norme utilizzarli in lavori socialmente utili noi pensiamo che per i parchi i giardini le piste polivalenti il verde insomma la manutenzione della città sì diciamo l'abelimento la manutenzione diciamo la necessità di tenere bene gli spazi pubblici dove sono tante persone sono moltissime le famiglie che sono noi abbiamo una decina di parchi di piste polivalenti di piazze insomma quindi è importante anche questo e poi è un segnale che non si possono prendere soldi senza fare niente ecco questo la gente ce lo dice ce lo dice quotidianamente fate bene io ho avuto molti messaggi dicendo bravo è fatto bene perché devono poter fare qualcosa per quelli che prendono certo sono un po' di ore alla settimana giusto? sono poche ore settimana bisogna fare una cosa un po' più corposa però è importante partire assolutamente sì andiamo avanti lei non demordi ha rilanciato anche un treno per il foglia metallo sì io penso che sia una grande operazione quella che sta avvenendo se smettessero anche di fare le polemiche perché io credo che bisogna lavorare insieme lo slittamento della ferrovia diciamo verso la parte interna rispetto alla costa ma c'è un problema anche di collegamento delle aree interne già centinaia di anni fa il Consiglio Provinciale di Peso Urbino misero delle risorse per fare in modo che il tratto ferroviario Pesero Fano Fossombrone Urbino scendesse nella vallata del Foglia Schieti che è sempre comune di Urbino la pedemontana andava a Sant'Arcangelo in Romagna la ferrovia e scendesse nella vallata del Foglia da diciamo Schieti Cagallo Borgo Massaro Rio Salso Montecchio Pesero un anello ferroviario c'è uno studio in corso che va completato in tutta quest'area per circa 100 km e che collegherebbe bene le aree interne con la costa perché nella parte interna delle marche e della provincia stanno metà dei cittadini e c'è la necessità anche di dare un ruolo più pregnante alle aree interne per cui e questo oltre che migliorare i collegamenti su gomma perché nell'incontro che ho avuto con l'assessore Baldelli e poi anche col presidente aggiunta regionale Acquaroli la necessità nell'area nel compressorio Pesarele dove ci fu la prima circolare degli autobus tanti anni fa una poi si chiamerà freccia rossa se non piace ferra rossa sarà freccia azzurra un pullman veloce che colleghi diciamo le attività produttive io oggi ho fatto un giro nei cantieri e uscivano tutti gli operai dall'azienda di Vitti la Rivacolt 1300-1400 persone e un conto è che passa il pullman lì e li porta immediatamente a casa e al lavoro e un conto è che ci vuole un'ora per andare a lavorare uno va con la macchina quindi c'è un problema anche di contenimento nell'uso del mezzo privato a favore del mezzo pubblico quindi il trenino l'autobus e la ciclo pedonale noi adesso c'era già un impegno della precedente giunta regionale portato avanti da questa giunta regionale di altri 5 km di piste ciclo pedonali se io voglio andare a lavorare in bicicletta ho a piedi ho 25 km di piste ciclo pedonali anzi noi probabilmente giovedì comunque in settimana prima della pausa per le feste pasquali accenderemo le luci in diciamo in un tratto della ciclo pedonale che va dal fiume Foglia fino al sottopasso a Bottega con tutte le lampade a led con un forte risparmio energetico e tutti quelli che vogliono passeggiare anche di sera la pista sarà più sicura perché sarà tutta illuminata abbiamo risistemato il manto diciamo del calpestabile da parte dei cittadini che era un po' logoro perché era stato fatto diversi anni fa e quindi un sistema diciamo ciclabile pedonale su ferrovia e perché no con pullman veloci la regione ha delle risorse può attingere anche dai finanziamenti europei e quindi io che sono ottimista penso che se si è preso un impegno la giunta regionale ho buone ragioni per far sì che questo impegno si mantenga insomma e che venga portato a terra diversamente io sono un battagliero e apriremo la battaglia e apriremo la battaglia chiunque ci sia io preferisco collaborare e non far polemiche evitare di fare le battaglie però io non posso tenere una casa salute che non funziona che non c'è tutto quello che i cittadini chiedono perfino non siamo capaci nemmeno di rimettere una guardia medica insomma diventa una cosa abbastanza difficile da giustificare anche perché la gente si incazza non con la regione ma con il sindaco e che non c'entra niente perché è un compito della regione la sanità sì tornando a parlare di mobilità sostenibile e altro rimaniamo in tema perché avete installato delle colonnine per la ricarica elettrica delle auto sì abbiamo diciamo una un piano abbastanza importante sia nella fascia diciamo più numerosa a Montecchio a Bottega sia a Sant'Angelo in Listola sia in tutti i luoghi insomma dove si può fare la ricarica per le auto e poi abbiamo anche degli investimenti per il parcheggio delle biciclette e la ricarica delle biciclette elettriche quindi diciamo un obiettivo di comuni sostenibili di mobilità sostenibile alternativa per ridurre l'inquinamento contenere diciamo l'inquinamento atmosferico che è importante insomma Sendo che invece i lavori per il cinema teatro auditorium? Ma i lavori per il cinema teatro auditorium sono partiti hanno fatto dei pali importanti che reggeranno il prefabbricato hanno un anno di tempo quindi l'anno 2022 sarà l'anno dell'inaugurazione del depuratore per circa 7-8 milioni di investimenti del teatro della metanizzazione e della depurazione di Colbordolo di Montefabri del Monte di Colbordolo il 2023 sarà l'anno dell'inaugurazione del teatro Giovanni Santi nella rete dei teatri marchigiani oltre che il teatro Branca di Sant'Angelo in Lissola che è ritornato ad essere un gioiellino 150 posti Sant'Angelo in Lissola 330 posti al teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglia insomma tagli del nastro veramente importanti quindi un traguardo possiamo dire quasi raggiunto perché se ne parla da tanto tempo e adesso come abbiamo visto anche da queste fotografie si va a compimento di quest'opera sì anche se chi governa bisogna che si rende conto perché cosa è successo non è successo solo una guerra ahimè drammatica abbastanza folle di questi tempi ma è successa anche una guerra economica perché questi potenti oligarchi della terra hanno fatto sparire tutte le materie prime parliamoci chiaro se le voi costano 20-30-40% in più e anche nelle opere pubbliche noi siamo stati fortunati perché erano già tutte opere appaltate quindi ci costerà un po' in più ma una cosa giusta quelli che devono appaltare le opere lo Stato in generale tutte le opere pubbliche se non aggiungo il 30-40% di soldi in più non partiranno non si spenderanno si bloccherà l'economia quindi andrà avanti purtroppo anche per diverso tempo questa situazione sì quindi come si vede non è una guerra solo di terribile per i morti ma è anche una guerra economica abbastanza folle piuttosto che collaborare cooperare la povera gente è sempre più povera i potenti della terra sono sempre più ricchi questo non va assolutamente bene invece sindaco per il Pala Dionigi e le mura storiche c'è stata una convenzione con l'unano la sorella ma il Pala Dionigi noi abbiamo un progetto sulla rigenerazione urbana che se ci verrà finanziata abbiamo messo un milione e sei dalla rigenerazione urbana per portarlo a otto metri e 1500 posti quindi per poter giocare con la serie A a Montecchio di Vallefoglia al Pala Dionigi oltre che rifare le mura castellane come era previsto dagli acquarelli del Mingucci del 1600 a col burdolo patria di Giovanni Santi perché è l'unico castello che non ha le mura complete quindi nell'accordo che noi abbiamo fatto abbiamo messo due milioni e mezzo di finanziamenti che abbiamo richiesto con la rigenerazione urbana per completare l'assetto dei tre burgi storici i tre castelli e per un aspetto sociale importante perché è vero che è la serie A quindi è competitiva competitiva a livello nazionale ma è pur vero che noi abbiamo un vivaio di palavolo maschile e femminile di centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi perché abbiamo una squadra in la pol bottega femminile in serie C un'altra in serie D insomma abbiamo una quantità di attività sportive in tutte le discipline nel calcio e così via Ital Service che fa il calcio 5 che dice che è di peso ma in verità la fabbrica c'è la Talac insomma poi ci abbiamo siamo diventati campioni italiani di serie A oggi è in A2 per le bocce al Morciola Sporting e dell'altro ieri sono diventati campioni provinciali di biliardo a boccette c'è una bella vivacità anche dal punto di vista sportivo abbiamo un'infinità di impianti sportivi perché noi abbiamo fatto una nuova palestra la Pala on the day a bottega con subissati bellissima tutta in legno abbiamo realizzato con diciamo palavitri a Montecchio di Vallefoglia un'altra bellissima struttura quindi abbiamo due campi in sintetico in due campi in terra battuta per quel che riguarda l'attività di calcio abbiamo un vivaio di ragazzini veramente straordinario se uno fa un giro un pomeriggio vede tutti questi ragazzini che giocano e che sono tutti impegnati in attività sportive che fan bene alla salute e non portano i ragazzi a fare altro insomma giustissimo ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità e poi torniamo a parlare di asfalti marciapiedi eventi in un solo siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Vallefoglia dunque sindaco partiamo dai cassonetti intelligenti che dovrebbero essere in arrivo così come la figura dell'ispettore ambientale che avrà logicamente il ruolo di controllare e scovare anche i furbetti dei rifiuti sì pensiamo che sia molto importante abbiamo aderito a questo progetto di Marche Multiservizi riteniamo che gli ispettori ambientali possono dare una mano a controllare e fare in modo che ci sia una maggiore educazione nel diciamo nel trattamento dei rifiuti per far sì che insomma la gente abbia un occhio di attenzione e che si possa realizzare un miglioramento vistoso nella qualità dell'igiene urbana del resto è anche per noi un impegno finanziario non da poco mi pare che sia un'ottima iniziativa e che anche altri comuni confinanti con noi grazie a Marche Multiservizi speriamo che sia finanziato e che sia realizzato quanto primo questo progetto andiamo avanti con altri lavori magari Reggio facciamo una carrellata di foto logicamente in primavera iniziano anche i lavori di asfaltatura ce ne sono altri in programma ci sono delle vie in particolare ma noi devo dire che abbiamo avuto una costanza io oramai sono sindaco da otto anni e abbiamo messo 5-600 mila euro per ogni anno in una costanza che ci porta a dire che oramai a Vallefoglia per dirla in maniera semplice e comprensibile non ci sono quasi più buche quindi va tutto liscio insomma è tutto liscio non dico come l'olio di extravergine d'oliva ma comunque c'è una maggiore sicurezza una maggiore attenzione e adesso prima insomma della pausa estiva saranno completati tutti i lavori in molte strade anche diciamo di minore importanza che però sono tutte importanti perché penso alla zona di Coldelce penso alla zona di Sant'Angelo l'isola di Montefabri in tutti i luoghi carinissimi e che le persone vanno e vanno in sicurezza quindi diciamo che è importante perché i cittadini anche quelli che stanno nelle zone rurali hanno più o meno le stesse opportunità che hanno quelli che stanno a Fondo Valle che sono un buon 90% degli abitanti della città di Vallefoglia andiamo avanti vediamo la prossima fotografia marciapiedi anche qui dove siamo questo è un percorso anche per non vedenti per persone che diciamo hanno situazioni di particolari difficoltà come si vede al centro di questo camminamento è fatto apposta per persone che hanno problemi di vista e che devono avere le stesse identiche opportunità che hanno altri e una sistemazione una maggiore sicurezza e una fruibilità della piazza c'è la bella panchina rossa antiviolenza al centro di Piazza Europa quella piazza sarà intitolata a David Sassoli Piazza Europa si chiamerà David Sassoli e sarà questo camminamento inaugurato in questa settimana prima delle feste poi come dicevo prima probabilmente in settimana inaugureremo accenderemo anche tutta l'illuminazione in quel tratto di ciclo pedonale che va dal ponte del fiume Foglia fino al sottopasso di Bottega un investimento di 200 mila euro che dà maggiore sicurezza e chi vuole anche passeggiare di notte non ha il pericolo del buio e d'altra parte proseguono le iniziative culturali alla Torre dell'Arte Sì stiamo cercando di rimettere in moto delle attività turistiche di valorizzazione paesaggistica ambientale alla Torre di Sant'Angelo in Lizzola con l'associazione della Michaletti con diciamo il centro culturale Giovanni Santi con diciamo le attività con la famiglia Cacciaguerra con il teatro e speriamo di poter riprendere a pieno di liberarci definitivamente del covid perché ahimè ancora dobbiamo stare attenti abbiamo più di un centinaio ancora di contagi nonostante tutto e però oramai speriamo di liberarci anche del covid quindi ritornare parlavamo proprio oggi nel periodo estivo a diverse iniziative noi abbiamo fatto la notte bianca abbiamo fatto diverse iniziative che intendiamo riprendere abbiamo puntato molto anche sull'agra alimentare sui prodotti di qualità che ci sono in quel territorio ad una collaborazione anche con i comuni confinanti perché Vallefoglia ha il punto strategico più importante che è Montecchio che come dico scherzando è piazza del popolo di Pizzero o piazza 20 settembre di Fano è la piazza di 5 o 6 comuni perché tutti vanno lì perché ci sono i centri commerciali ci sono le banche ci sono tutte le attività commerciali di maggiore qualità e quindi anche i comuni confinanti lo riconoscono un luogo centrale non è un caso che la casa della salute di tutti i comuni è lì a Montecchio e poi ci sono due personaggi che Vallefoglia vuole ricordare e omaggiare eccoli qua dunque i personaggi sono tanti a Vallefoglia noi abbiamo pubblicato una una bella rivista direi tutta la foto che si chiama Vallefoglia le origini le strategie future anche di Vallefoglia nel 2022 è l'anno diciamo i 200 anni dalla morte di Giulio Perticari e i suoi rapporti con Rossini e i 500 anni dalla nascita del conte Giulio Perticari Montefabbri capitale europea delle città sicure il conte diciamo Paciotti era un grande architetto militare che ha operata ad Aversa operata ad Ancona a Torino in tante realtà quindi faremo un'iniziativa per ricordare 500 anni dalla nascita e poi diciamo che su Sant'Angelo su Colbordolo su Montefabbri investiamo non solo perché sono le radici storiche e che danno l'idea di dove si va a parare anche per il futuro ma sono anche rapporti come avvenuto con Giovanni Santi e Raffaello Perticari Mamiani con Pesaro le realtà che ci collegano stiamo lavorando anche su un terzo progetto che è quello di Papa Albani con il governo albanese con le città più importanti dove Papa Albani ha operato e con il Papa tedesco Papa Guidubaldo diciamo che a Psella di Montellabate insieme al Comune di Montellabate e sul turismo religioso perché Beato Santo Brancorsini è nato che oggi è a Montbaroccio ma è nato a Montefabbri Pontevecchio e San Terenzio è morto su diciamo fra Montecchio e Montellabate Comune di Vallefoglia quindi turismo religioso Papa Clemente II Papa Albani San Terenzio Beato Santo Brancorsini Le Pieve tutti questi luoghi bellissimi che sono il turismo religioso che è molto importante il turismo religioso io ho incontrato il ministro del governo albanese per fare una mostra su Papa Albani Papa Albani vuol dire l'Albania perché era albanese ma vuol dire Venezia vuol dire Roma vuol dire Urbino vuol dire Fano vuol dire Pesaro vuol dire Vallefoglia perché la chiesolina di Villa Albani di Bottega Talacchio di Vallefoglia è dove Papa Albani andava a pregare quindi ecco il turismo religioso è molto importante quindi puntiamo molto pur essendo una città industriale fortemente industrializzata che ha una crescita esponenziale non ci sono soli nati i matrimoni ci sono attualmente circa 80.000 metri di cappannoni nuovi una crescita una crescita enorme che produrranno centinaia e centinaia dei posti di lavoro Civitas Man che è un centro di coesione sociale che assumerà 170 persone ma soprattutto è una risposta alle persone adulte alle persone grandi che sono 200 mini alloggi per persone non autosufficienti un palazzetto dello sport nuovo per la disabilità insomma quindi come si vede Vallefoglia è una città in forte movimento non è un caso che abbiamo detto la valle del fare ma non noi ma la genialità delle persone delle imprese e anche il coraggio di investire in contrattendenza perché ecco di questi tempi fare milioni milioni di investimenti in infrastrutture per l'economia ci vuole coraggio e quindi noi anche va un grande ringraziamento a tutte queste imprese che nonostante la guerra nonostante il covid nonostante la crisi economica eccetera ma c'è un fervore che è veramente straordinario e appunto come diceva lei la valle del fare insomma termine azzecatissimo sindaco grazie per essere stato nuovamente ospite nei nostri studi grazie a voi un ringraziamento anche in regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra l'appuntamento con l'informazione per domani mattina alle ore 7 con Massimo Fughetti arrivederci a presto